Sono Beppe Galfione, presidente dell'Associazione Amici del Po di Villa Franca Piemonte. Purtroppo anche la nostra associazione sta passando un periodo di inevitabile pausa. Nel 2020 avremmo dovuto festeggiare i nostri 40 anni e con la Pasquetta si davano inizio le attività. Ho voluto per non fermarci e con i mezzi a disposizione farvi percorrere qualche minuto con noi con un breve video. L'Associazione Amici del Po nata a Villa Franca Piemonte nel 1980 con la ricchezza di iniziative ed il dinamismo che da sempre caratterizzano la nostra associazione «Siamo certi che se avrete la pazienza di seguirci in questo viaggio potrete cogliere l'aspetto che più ci sta a cuore e che in tutti questi anni non è venuto meno in noi, la voglia di stare insieme e di costruire qualcosa che rendesse concreto il nostro amore per la natura, per la vita all'aperto, per Villa Franca e per il territorio». Voglio augurare a tutti gli associati e ai loro familiari una serena Pasqua. Ora cliccate sul link e buona visione. Arrivederci, a presto!